Ciao Glitters e bentornati sul canale! Oggi video super speciale perché Marinette vuole provare a fare la youtuber e quindi come primo video ha scelto di realizzare la sua morning routine Ora, fateci sapere se questa idea vi piace così Marinette farà anche altri video anzi, suggeriteceli voi qui sotto nei commenti ma non parlerò oltre, questo video lo farà solo lei Vai Marinette! Sì, allora, ciao Glitters, io sono Marinette e questa è la mia morning routine Mia che vergogna, so già che sarò super sbadata Allora, oggi è domenica mattina e quindi ho deciso di farla adesso perché non devo andare a scuola ed ho anche già finito tutti i compiti e quindi approfitterò di questa splendida giornata per prendere tutto con calma e rilassarmi un po' Come potete notare mi sono appena svegliata, i miei capelli sono tutti arruffati e la sera li raccolgo in questa coda, poi di giorno faccio i codini ma adesso, prima di ogni altra cosa, la cosa più importante ragazzi vado a fare colazione Mio padre e mia madre non ci sono Ah sì, avevano un importantissimo convegno sulla pasticceria ma a quanto vede mi hanno preparato un'ottima colazione domenicale che ovviamente non è come quella normale non so se lo fate anche voi ma io la domenica faccio una colazione molto più abbondante e squisita Beh, però, effettivamente i miei genitori sono pasticceri, quindi Dunque, bevo del latte con tanto, tanto, ma tanto cioccolato e poi quest'ottima crostata ai lamponi che ha preparato mio padre Ah, è divina! Marinette, Marinette, ma devo mangiare un po' anch'io! Oh, giusto Ticchi, ecco a te! Oh, è deliziosa! Già, te la do tutta perché tu devi essere in forza Appena finito di fare colazione, metto in ordine il tutto e poi arriva la mia parte preferita È l'ora del bagno! Sì, solitamente la domenica faccio un bel bagno rilassante per prendermi cura di me, della mia pelle e dei miei capelli Infatti adesso, mentre si riempirà la vasca farò una piccola maschera a viso Io uso questa della Cossinelle, che è completamente biologica Ottima per la mia pelle Ecco, sì, magari mi rendo conto che adesso faccio un po' paura Però, tranquilli, perché ha un effetto strepitoso Rende la pelle morbida, morbida Bene, la vasca è pronta Ho anche immerso una bomba da bagno Adoro le bombe da bagno Adesso mi cimmergo con tutta la maschera, ovviamente Così agisce meglio e mi rilasso Ah, non c'è niente di più bello al mondo No, scherzavo C'è Adrian Marinette, Marinette, voglio farlo anch'io il bagnetto Ma vieni Tiki Sì Ok Tiki, ora dobbiamo proprio uscire Oh no, sto così bene Eh, lo so Anch'io Ah, mi sento completamente rigenerata Ok, adesso mi dedico i capelli e faccio i miei soliti codini Poi dovrei scegliere un vestito da mettere Vorrei fare un giro in centro dopo Però ok, facciamo prima i capelli Ok, ma adesso, prima di scegliere il vestito C'è una cosa molto importante da fare Che, diciamo, faccio in tutte le mie morning routine Anche quando devo andare a scuola È assolutamente necessario di stare a guardare le foto del mio Adrion Ah, quanto è bello E i suoi occhi Ah, potrei perdermi ci dentro Marinette, ma non dovresti vestirti? Oh, Ticchi, un attimo È il mio momento con Adrion Ma io non capisco Invece di stare qui a fissare le sue foto Perché non gli chiede di uscire? Non è per niente facile, Ticchi No, invece sì, sei solo una gran fifona Non è vero E poi, per adesso mi va bene anche stare qui a guardare le sue foto Ah, ok Allora sta pure qui a guardare le sue foto Amore mio Oh! Oh! Ma... Ma... Cosa? Sanuar, ma che cosa ci fai in camera mia? Ai, 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 ai Oh, oh, oh Scusa, scusa Marinette Mi dispiace tantissimo Ecco, ehm Mi... Mi giro, ok? È che c'è un super cattivo in città E purtroppo non riesco a contattare Ladybug Oh no, che stupida Ho dimenticato il cellulare in cucina Oh, un super cattivo, dici? Beh, ehm Quindi dovresti andare a combatterlo, no? Non restare qui in camera mia No, è impossibile È fuori discussione Non posso assolutamente farcela da solo senza Ladybug È troppo forte Sai cosa ti dico? Aspetterò qui Sì Aspetterò l'arrivo di Ladybug Tu tranquilla Fa pure tutto quello che devi fare Ehm Sì Ma dov'è finita, Ticchi? Non la trovo Adesso devo andare a vestirmi per forza Quando avrei potuto benissimo trasformarmi in bagno D'accordo D'accordo Risolveremo questa situazione Ehm Bene, gattino Gattino Sai che così mi chiama Ladybug? Eh, sì Infatti, devo averlo sentito da lei Comunque Io vado un attimo in bagno a vestirmi Sai, nel caso non l'avessi notato Sono in accappatoio Oh, sì Certo, scusami Va pure Io intanto mi stenderò un po' qui Ma tu guarda Senza di me non riesci a fare niente E questa cos'è? Forse la foto del ragazzo di cui è innamorata Non dovrei guardare No, Marinette in fondo è una mia compagna di classe Oh, però sono curioso Che faccio? La guardo? Ma sì, in fondo non c'è niente di male E poi è Chat Noir che la sta guardando Non Adrian Quindi vediamo Non azzardarti a toccarla Oh, scusa, scusa, scusa Marinette Che l'ho vista a terra e volevo raccoglierla Oh, certo Ne sono più che sicura Oh, andiamo Marinette In fondo che male c'è A me puoi dirmi tutto Eh, sì Il fatto è che non voglio Sono cose private E preferisco tenerle per me Ma magari posso aiutarti Ne dubito fortemente Comunque C'è un cattivo là fuori Che sta terrorizzando tutto a Parigi E tu sei qui A ficcare il naso nei miei affari Ma non è vero Marinette Dai, era una cosa innocente Non penso proprio Sarò gentile lo stesso con te E andrò giù in cucina A prenderti una fetta di torta D'accordo? Oh, sì Tuo padre è pasticcere se non ricordo male Sarà buonissima Allora ti aspetto qui Va bene Ah, e la foto viene con me D'accordo Volevo solo aiutarti Vicky Oh, ero sicura di trovarti qui a mangiare Devi aiutarmi Devi trasformarmi subito Chanoir è nella mia stanza Che cosa? Chanoir nella tua stanza? Esatto È nella mia stanza Perché c'è un cattivo a Parigi Che non riesce a sconfiggere da solo E non avevo sentito la sua chiamata Perché ho lasciato il telefono qui Dovrò rinunciare alla mia domenica super rilassante Interessante Beh, combattendo i cattivi farai allenamento Sì, anche questo è vero Ma significa che dopo dovrò rifare il bagno Comunque Ticchi Non siamo qui a parlare Forza Trasformami Subito Marinette Ah, ecco Ora non ho più il dilemma Dell'abito da scegliere Perché questa domenica Sarà Ladybug E sconfiggerò i cattivi Esatto ragazzi Anche questo fa parte delle mie morning routine Andiamo Ehi gattino Ladybug Finalmente Sei arrivata Sì, infatti Scusa ma Avevo il telefono altrove Ora se non ti dispiace Dobbiamo subito andare a sconfiggere quel cattivo Ma Fammi almeno salutare Marinette Era andata a prendere una torta per me Oh, tranquillo, tranquillo Lei capirà Forza Andiamo Ma aspetta Bene ragazzi Il video di oggi finisce qui Chissà chi sono andati a combattere Ladybug e Chat Noir Forse lo scopriremo nelle prossime storie Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel pollice in su Cliccate qui per iscrivervi al canale E qui per non perdere tutte le altre storie dedicate ai vostri giochi preferiti Noi ci vediamo al prossimo video Ciao